Ci teniamo a dire che siamo una rete di associazioni e persone che può essere molto utile alla Regione per la propria promozione all'estero. Una rete importante alla quale si stanno riferendo sempre più imprenditori, collaborazioni con le università, con enti di formazione. Bisognerebbe prima di pensare di chiudere tutto questo di conoscerlo. E' una realtà molto bella e interessante e in più abbiamo dato un contributo a far sì che sia nato un coordinamento nazionale delle consulte regionali che anche questo è un grande incentivo al lavoro che viene fatto sul piano nazionale dal governo, dal CGE, con i comites. Insomma è una realtà molto complessa e interessante e anche portatrice di un grande valore economico visto che i nostri emigrati continuano a mandare rimesse dall'estero, hanno conti correnti qui, hanno a casa per cui pagano l'Imo e hanno soprattutto la voglia di essere nostri rappresentanti perché sono orgogliosi della radice regionale.